Bentornati ragazzi in un nuovo, fatto dopo 80 miliardi di giorni di assenza, video. Oggi andremo ad analizzare quali sono gli errori principali degli adcari in silver e bronzo e anche in gold. Ovviamente non sarà la solita lista di cose ovvie, ci sono tantissimi piccoli errori che si fanno durante un game e di cui non ci se ne accorge nemmeno per molto tempo. Ovviamente gli errori principali sono i soliti, positioning, farm eccetera eccetera, però cercheremo di vedere la cosa più nel dettaglio. Togliamoci subito un peso di dosso e partiamo proprio con questi errori più conosciuti. Il positioning, ovviamente questo è l'errore più comune e palese che si può riscontrare negli adcari ed è anche abbastanza complicato da risolvere. Per positioning non intendo solo quello nei fight ma anche quello in lane e durante tutte le fasi del game. Ci sono regole fondamentali del positioning a cui non si deve mai disobbedire, o quasi. In lane la prima cosa che dovete valutare per sapere dove stare è la capacità di engage della bottele nemica e la vostra di disengage. Una tristana e un blitzcrank hanno un'altissima capacità di engage mentre un ezral e una gianna hanno un'altissima capacità di disengage. Ovviamente non posso stare qui a farvi tutto l'elenco ma vi posso dare delle linee guida. Un edy carry con scatti o simili ha una buona capacità sia di engage che di disengage, che però si azzera nel momento in cui quella spell è in ricarica. Un edy carry con stun, slow, snare e altri cc ha invece un altissimo potenziale di engage e un minore potenziale di disengage in quanto difficilmente si possono usare questi cc per salvarsi, o perché sono single target oppure perché sono le ultimate. Support con grab, cc prolungati e scatti hanno un altissimo potenziale di engage ma un basso potenziale di disengage. Support con cure, knockback, stun ad area facilmente colpibili e slow sono invece ottimi disengager. Ovviamente dovete ricordarvi che ogni champ ha la sua specifica abilità e nel momento in cui questa è in ricarica, loro ne perdono il potenziale di uso. Un alistar con le skill in ricarica è solo una grande e grossa mucca blu. Oltre a questo dovrete contare anche il fattore danni. Nel momento in cui l'edy carry nemico ha un vantaggio o scala più velocemente e quindi fa più danno di voi, la sua pericolosità aumenta perché potrebbe shottarvi in poco tempo, come un assassin. L'ultimo fattore in lane phase è il jungler. Come vi dico sempre dovete tenere d'occhio la mappa per sapere dov'è il jungler nemico. Nel momento in cui non sapete dov'è non spingetevi troppo avanti nella lane, cercate di frizzare la lane o comunque di non pusharla. Anche qui in base al jungler dovrete comportarvi in modo diverso. Ci sono jungler come Shyvana ad esempio che non hanno cc e senza una lane che glieli può fornire riesce difficilmente a portare a termine un bel gank prima di livello 6. Jungler con scatti, invisibilità, possibilità di passare i muri e cc pesanti sono molto pericolosi nei gank invece, quindi non superate mai la metà della lane se non avete il ward per individuarli e non sapete dove siano. Jungler senza particolari cc o scatti si affideranno invece ai vostri avversari bot per gankarvi, potete quindi mettere un po' più di pressione se volete, ma ricordatevi sempre di wardare in modo da vederli arrivare. Oltre ai jungler dovete tenere conto del mid laner che ogni tanto potrebbe scendere, contatelo come un secondo jungler. Durante il game ricordatevi sempre di non andare in punti della mappa non wardati, specialmente nella jungle nemica, e di non pushare da soli in zone non wardate. Nei fight la regola è semplice e ormai sarà la centesima volta che la dico, attaccate il champ più vicino a voi o il più pericoloso nel vostro range, nel caso ce ne sia più di uno. State lontani da fonti di danno e cc, ricordatevi sempre che un assassin vi uccide in un secondo massimo e quindi non ha senso cercare di avvicinarsi a lui prima che questo abbia usato le proprie spell o sia stato stannato. 20 minuti e abbiamo detto una sola cosa. Che culo, passiamo al farming e alla gestione di una lane persa. Penso vi sia capitato almeno una volta di giocare una lane con un support particolarmente incapace o semplicemente contro due giocatori più forti di voi. In questi casi è inutile cercare engage. Dopo che avete visto che non riuscirete a vincere i 2v2, puntate invece solo a farmare. Farete delle kill se vi gankerà il jungler, se no sti cazzi. La cosa importante è non dare kill gratuite alla di care nemico. Magari giocando passivi vi distaccherà in farm, ma almeno non guadagnerà oro aggiuntivo dalle vostre morti. Ma io dico sempre al support di stare safe, ma lui ingaggia non lo seguire. Non lo seguire. Se lui muore perché fai engage stupidi, è giusto che tu stia fermo a farmare, cercando di non rimanere indietro e puntando a carriere in late. Se ti flamma, lo muti. Se invece avessi sbagliato tu a non seguirlo, perché l'engage era buono e potevate prendervi una double, ma almeno sai di aver giocato secondo il tuo cervello e non secondo quello che vogliono gli altri. Ricordatevi che si impara dai propri errori, non da quelli altrui. Dopo sti due colossi dell'ovvio, passiamo quindi alle piccole cose che probabilmente ignorate. Sensibilità e mouse adatti. La sensibilità del mouse è molto importante. Il ruolo della di care necessita un click preciso per evitare di perdere minion e di sbagliare bersagli, senza contare che è essenziale per un buon kiting. Ovviamente non è una cosa obbligatoria, ma avere un mouse con tasti laterali ed dpi programmabile è ovviamente utilissimo. I tasti laterali sono ottimi per assegnarci alcuni comandi. Il dpi programmabile, combinato con la sensibilità in game, serve per avere la giusta precisione. Ovviamente vi consiglio di settarli bassi. Io ad esempio gioco con 1400 di dpi sul mouse e 40 di sensibilità in game, e forse calerò ancora prossimamente. Non andate a comprarvi mouse da 100€ per salire dal bronzo. Ci sono un sacco di prodotti sui 20-30€ che sono più che buoni, non vi preoccupate. Spam clicking. L'errore più comune e allo stesso tempo più sconosciuto è il continuo click del tasto destro. Da di care questa cosa non aiuta affatto. Peggiora la vostra precisione facendovi perdere farm e distruggendo il vostro positioning e kiting. Tirate un respiro profondo mentre giocate e rallentate la frequenza dei click. Usate solo i click indispensabili e non sfondate il mouse, che almeno vi dura anche di più. Un altro errore molto comune è giocare troppi ADC diversi. Imparare playstyle e matchup di tanti ADC è molto complicato e rallenta l'apprendimento delle meccaniche basilari, che invece sono il vero motivo per cui salite. Concentratevi su 2, massimo 3 AD carry. Cambiateli pure in base al meta, ma non continuate a passare da uno all'altro senza averne esperienza. Non ha senso. Poccare e non farsi poccare. Imparate a poccare e a rispondere ai pochi nemici. Sfruttate i tempi di ricarica nemici, le differenze di range e danno per fare danno gratuito all'AD carry nemico, o per danneggiare il support nel caso si avvicini troppo. Il poke è una meccanica molto importante e utilissima se padroneggiata, perché vi permette di vincere la lane anche senza fare kill. Attenzione al power spike del livello 2. Come spero tutti voi sappiate, una volta uccisi i primi 9 minion, la prima wave da 6 e i 3 minion guerriero di quella dopo, voi e il vostro support salirete al livello 2. Questo momento è molto importante. Raggiungere il livello 2 prima dei nemici vi mette in una condizione di estremo vantaggio e se sfruttata bene può darvi anche una kill. Appena fate il 2, se i nemici sono ancora all'1, appena fate il 2, se i nemici sono ancora al primo livello potete sfruttare i vostri engage per fare più danno possibile all'AD carry nemico, cercando di far usare Flash o IAL. Support come Blitzcrank, Trash, Nautilus e simili sfruttano molto bene questo vantaggio e la maggior parte delle volte guadagnano una kill da questa mossa. Ovviamente il discorso vale anche al contrario, se vedete che i nemici stanno per uccidere l'ultimo minion guerriero per salire di livello, mentre a voi mancano ancora 2 o 3 minion, cominciate a indietreggiare, in modo da impedire ai nemici di sfruttare il power spike livello 2. Questa storia si ripete per il livello 6, che è però più complicato da prevedere nei nemici, quindi tenetevi pronti a ingaggiare quando vi manca poco al 6, ma aspettatevi anche un engage nemico. Con questo abbiamo finito, in alto a destra nelle info trovate un po' di video utili a migliorarvi come DC, li trovate anche in descrizione nel caso. Vi consiglio vivamente di guardarli perché spiegano alcune delle meccaniche che vi ho citato. Prima di chiudere con la solita frase torno per l'ennesima volta a scusarmi per l'assenza. Ultimamente la scuola mi prende tempo e voglia stancandomi. Peggio ancora sono rimasto senza idee per una settimana e sapete che a me non piace fare video a caso o che ritengo inutili. Non dico assolutamente di non aver avuto il tempo per fare i video perché ho giocato, ho fatto i cazzi miei, ma sicuramente mi mancava l'input. Siamo arrivati oltre a 3.900 iscritti, vi ringrazio di cuore e puntiamo sempre più in alto. Per questo video è tutto, se non siete ancora iscritti iscrivetevi. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao belli. Grazie.